Per quanto sia tagliato fuori dalla lotta per il titolo di campione italiano professionisti su strada, Fausto Coppi vuol dimostrare che il migliore è ancora lui, specialmente in una prova a cronometro. La stagione ciclistica sta per finire e Fausto ha bisogno di questa vittoria. Eccolo al traguardo primo a oltre 40 di media. Per conquistare il titolo Minardi dovrebbe precedere di molti posti Magni, ma Fiorenzo sa che è la sua gran giornata e ce la mette tutta in questa quinta e ultima prova di campionato. Lo accompagna l'augurio della moglie e della figlioletta. A tifose simili non si può dare una delusione. Giungendo settimo con Minardi decimo Magni ha raggiunto lo scopo, campione d'Italia per la terza volta. La maglia tricolore premia in lui il migliore corridore italiano nel complesso delle gare della stagione.